Amazon è di certo uno dei negozi online più famosi al mondo, qui potete trovare un'infinità di articoli, ma nei miei video sui gadget vi mostrerò solo i più utili in assoluto, che vi renderanno anche la vita più semplice. Ovviamente qui sotto in descrizione troverete tutti i link dei prodotti. Questo che vedete è un robot intelligente che farà le pulizie al posto vostro. Mediante un'app disponibile sia per Android che per iOS potremo controllare tutte le funzionalità da remoto. Questo è il nuovo modello del 2018 che è stato perfezionato e ora si adatta ad ogni tipo di abitazione. Ovviamente dispone di sensori anti-collisione e anti-caduta, che lo rendono decisamente più sicuro. Ovviamente il robot può girare in tutti i modi e può raggiungere anche gli spazi più stretti. In mercato di gadget così ce ne sono davvero parecchi, ma vi assicuro che per rapporto qualità-prezzo questo è uno dei migliori. Nel caso vogliate acquistarlo, mi raccomando usate il codice qui sotto in descrizione e così otterrete uno sconto aggiuntivo. Secondo una recente indagine, ogni giorno nel mondo si verificano oltre 400.000 furti, quindi è per questo che bisognerebbe sempre proteggersi nel migliore dei modi. Per fortuna a venirci incontro c'è Bobby, uno zaino antifurto che darà dal filo da torcere a tutti i ladri. Bobby è uno zaino raffinato, che può essere utilizzato in qualsiasi contesto. Il materiale che vedete è un tessuto waterproof, quindi manterrà tutto l'interno sempre asciutto e lontano dall'acqua. Inoltre lo zaino è anche resistente a tagli e perfino agli urti. La parte di retto contatto con la schiena è composta da un tessuto traspirante e antisodore che permette il massimo comfort. Per quanto riguarda l'interno, quest'ultimo ha una moltitudine di spazi in cui posizionare oggetti di qualsiasi tipo. Z-Round potrebbe essere scambiato per un comune orologio, ma in realtà ha delle funzionalità smart che lo rendono molto interessante. Ha un aspetto decisamente accattivante che attirerebbe l'attenzione di chiunque. Ciò dovuto anche al fatto che ha una scocca in acciò inox e un cinturino a silicone, davvero flessibile e piacevole al tatto. Questo orologio consente di visualizzare le notifiche e l'attività giornaliere, la distanza e le calorie bruciate, quante ore abbiamo dormito e molto altro ancora. Inoltre permette di controllare da remoto la fotocamera e il player musicale del proprio smartphone. Poi, che dire, è performante, ha materiali davvero resistenti, è belli da vedere e poi costa anche poco. Infatti lo trovate su Amazon per meno di 100€. Certo che però se siete degli amanti della cucina, questa è una di quelle cose che non potete farvi mancare. Infatti, oltre ad essere molto utile, vi farà risparmiare del tempo prezioso, rendendovi le cose anche più semplici. Infatti, come potete vedere, presenta ben 5 separazioni in cui cucinare 5 cose diverse. Quindi, per esempio, al centro possiamo preparare del bacon con due grandiosi salsicciotti. Magari nella parte destra possiamo mettere a cuocere delle verdure e magari nella parte sinistra possiamo invece preparare un favoloso pancake. Sinceramente, ora a vedere tutte queste cose deliziose, mi sta venendo una fame da lupo. La diffusione degli smartphone ha dato la possibilità di scattare una quantità enorme di fotografie. rispetto al passato, infatti scattiamo molte più foto, ma ne stampiamo davvero poche. Però grazie a questo gadget, tutti potremo stampare le nostre foto ricordo e attaccarle magari in un poster speciale che tutti abbiamo. Comunque, è attraverso quest'app che potremo stampare le nostre foto più care, che avranno una qualità davvero alta e saranno perfino resistenti all'acqua. Comunque, PIKIT funziona con delle cartucce che si trovano sempre su Amazon e costano anche abbastanza poco.